Si susseguono sulle pagine Facebook riguardanti chietile e lamentele e gli sfoghi di cittadini indignati e preoccupati per aver ricevuto bollette dell'Atari scadute prima di essere recapitate. Impossibile dimostrare quando siano arrivate perché stavolta invece di essere spedite per raccomandata le bollette sono arrivate per posta ordinaria. Il che peggiora la situazione perché non è più possibile pagare a rate dal momento che si tratta di bollette scadute. E non è l'unica brutta notizia perché sono stati eliminati gli sgravi per i disabili e i residenti della zona SIR, il sito di interesse regionale per l'inquinamento di Chietiscalo sostituiti da un milione di euro stanziati dall'amministrazione comunale per famiglie, imprese e professionisti in difficoltà. Ma chi non ha fatto domanda dal primo all'11 di ottobre come pagherà? Per quello che riguarda i ritardi va detto che abbiamo attuato una riorganizzazione della nostra società partecipata e deputata appunto allo svolgimento di tale mansione e sono ritardi che ci sono sempre stati ma questa riorganizzazione che abbiamo messo in campo e ci porterà, siamo convinti, ad assicurare dei servizi più efficienti in futuro. Ad oggi cosa resta da fare per venire in conto a questi cittadini? Noi stiamo veramente cercando di fare il possibile per fare in modo di poter, però è un aspetto tecnico e non politico evidentemente, ma stiamo provando a vedere se c'è la possibilità di fare in modo che ciò che non si è riusciti ad erogare oggi lo si possa erogare un domani. Speriamo che dal governo ci siano ancora aiuti in tal senso. Noi stiamo facendo il possibile. Quello che deve essere chiaro alla cittadinanza è che noi siamo un'amministrazione che sta veramente cercando di risanare l'ente sotto tutti i punti di vista, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche agendo su quelle criticità che appartengono alla società partecipata che ovviamente doveva essere necessariamente riorganizzata perché vogliamo che ci siano servizi più efficienti in futuro e che i cittadini possano essere soddisfatti dei servizi erogati dalla società partecipata, però c'è da dire che sono problematiche che ci sono sempre state e sulle quali stiamo cercando di agire.